piano dato gesù cristo benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio della santissima vergine maria questa mistica tedesca che si chiama maria della divina preparazione dei cuori del 26 agosto 2022 è un tempo difficile ma dovete resistere ognuno di voi deve essere provato figlia mia mia cara figlia presto il tempo si oscurerà ma non temere non abbiate paura chi è con il padre non ha nulla da temere perché lui che vi ha creato tutti provvede a chi è fedele sottomesso e abbandonato a gesù mio figlio che tanto vi ama costui non ha nulla da temere perché sarà elevato e questo tempo è vicino molto vicino miei tanto amati figli io la vostra madre amorevole mamma celeste sono molto preoccupata tanti di voi non hanno longanimità mancano di forza non hanno né resistenza né fede che tutto accadrà veramente così come noi il cielo riunito diciamo temono che tutto duri ancora a lungo che tutto si protrarrà nel tempo e non vedono che così facendo si allontanano da mio figlio dovete restare forti e perseveranti amati figli noi il padre gesù i vostri santi gli angeli io e la vostra amorevole e protettiva madre celeste sappiamo che una prova difficile abbiate sempre coraggio perseveranza e fiducia totale che tutto è così come deve essere infatti prima che mio figlio il vostro gesù mandi il suo avvertimento la fiducia la fedeltà e la speranza di ciascuno di voi devono essere messi alla prova e solo chi è forte e costante supererà questa prova dillo dunque ai figli perché l'avvertimento è vicino il nuovo regno verrà e anche questo tempo in vicino molto male colpirà ancora il vostro mondo ma avete gesù e dio padre il vostro creatore entrambi provvedono a voi ognuno di voi che li ama veramente il loro spirito santo è fra voi inviato per ricolmarvi di chiarezza forza resistenza e con tanti altri doni quindi richiedeteli e servitevene dovete pregare dovete restare saldi dovete sperare fidarvi di gesù chi cede ora chi non resta fedele non riceverà il nuovo regno resistete dunque e pregateci me la vostra mamma celeste gesù il vostro salvatore che vi ama e vi attende lo spirito santo per ricevere chiarezza e fede pregate il padre per la mitigazione e per le sue premure supplicate per la mitigazione l'accorcimento del tempo e vi sarà concesso moltissimi di voi conoscono questo mistero moltissimi percepiscono questo infinito amore bontà e provvidenza del padre e ciò nonostante per moltissimi di voi questo tempo è molto difficile egli resistete perché i tempi diventeranno ancora molto più duri e beato chi si è rafforzato in mio figlio beato chi pone tutto il suo amore e la sua speranza in mio figlio felice chi resta fedele a lui al suo redentore fino alla fine amati figli restate fedeli resistete e non cedete mai al maligno nel vostro mondo sono disseminate talmente tante tentazioni pregate il padre che vi dia aiuto pregate supplicate il padre nostro questa questa preghiera è preziosa quindi pregatele insistentemente miei amati amatissimi figli perché vi preserverà dalle tentazioni abbiamo molto pregate tanto pregate intensamente e restate sempre fedele a gesù al mio e vostro gesù e fidatevi confidate in lui e amatelo con tutto il vostro essere amen la vostra mamma celeste madre di tutti i figli di dio e madre della salvezza amen gesù maria dio padre è un tempo difficile ma resistete amen sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria in tutti questi anni abbiamo ricevuto una costante richiamo dal cielo a pregare perché i tempi che l'umanità tutta dovrà vivere non alcune nazioni ma tutte è un tempo difficile siamo nel tempo della guerra siamo nel tempo della giustizia divina siamo nel tempo dell'anticristo siamo nel tempo di questa guerra che si combatte con armi batteriologiche nucleari e anche extraterrestri armi che vengono da altri mondi uno di questi è l'inferno allora la madonna ci ha promesso che gesù manderà il suo avvertimento ma prima di tutto dobbiamo essere provati e dobbiamo prepararci all'avvertimento con fisicamente e spiritualmente perché l'avvertimento non è una passeggiata l'avvertimento è una condizione dove entreremo tutti in estasi nel mio libro che trovate qui in descrizione qualcuno di voi l'ha acquistato racconto la mia esperienza in estasi a meggio cori dove ho visto gesù crocifisso e dove questa esperienza mi ha portato oggi ad avere questo canale youtube le pagine social i vari blog per parlare dei messaggi mariani della mia esperienza e del tempo che si sta ristringendo e quindi volevo aggiungere che l'esperienza che ho vissuto io seppur per pochi secondi è stata devastante restare sotto gesù crocifisso per quei 10 20 secondi mi ha causato una una perdita fisica eccezionale infatti il giorno dopo mi sono risvegliato nel letto di meggio cori dell'hotel di meggio cori avevo la febbre a 41 mi sentivo una pezza ovviamente era una febbre causata dalla dallo spaventoso timore che avevo di restare sotto la croce di gesù ma non perché avessi paura di morire ma perché ero emozionato e stare sotto la croce del re dell'universo è stata un'esperienza non casuale perché il caso non esiste ma un'esperienza che mi ha devastato fisicamente ecco che ci dobbiamo preparare anche fisicamente con una corretta alimentazione con lo sport ovviamente tranquilli gli anziani comunque saranno riservati in gran parte da un avvertimento troppo pesante anche per loro e quindi anche loro vivranno un avvertimento più contenuto e anche perché avvertimento serve a farci vivere un'esperienza dove poi dobbiamo chiedere perdono dei nostri peccati e gli anziani giustamente vivranno l'avvertimento e anche loro avranno la possibilità di chiedere perdono siamo vicini al tempo dei segreti di meggiugori che inizieranno con questo avvertimento e poi ci sarà il grande miracolo che accadrà in tutti i santuari del mondo dove tutti saranno guariti da tutte le loro malattie e questo insieme all'avvertire all'avvertimento porteranno milioni di conversioni e quindi l'uomo insieme al diavolo si stanno preparando con i loro piani mentre dio si sta preparando con i suoi piani che in parte ci vengono rivelati in parte non li sappiamo ma è giusto così perché in questo modo travolgerà i piani del mondo e del nemico allora resistiamo resistiamo pregando e fidandoci di gesù perché il nuovo regno è vicino sarà preceduto dalla seconda venuta di gesù dalla giustizia divina dall'apparizione dell'anticristo sarà preceduto da un insieme di cose il nuovo regno però ci sarà dato con la seconda venuta di gesù tra le nubi quindi dalle nubi scenderà gesù con i suoi angeli con i suoi santi con tanti altri esseri bellissimi e instaureranno sulla terra dopo il giudizio il nuovo regno che come sappiamo nel padre nostro quando nel credo quando recitiamo e di nuovo e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi morti e il suo regno non avrà fine cerchiamo di essere fedeli a gesù di pregare le tre persone il padre il figlio lo spirito santo la vergine maria i santi gli angeli e il nostro angelo custode che non vede l'ora di aiutarci di proteggerci ma lo dobbiamo pregare perché lui è vicino a noi e non vede l'ora che noi lo preghiamo e parliamo nel nostro cuore con lui sia notato gesù cristo nel cuore immacolato di maria finalmente è uscito il mio libro la mia esperienza di conversione a meggiugori nel 2012 attraverso questa estasi con gesù cristo potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito troverai il link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere